Cari figli, l'Altissimo mi ha mandato da te per insegnarti a pregare. La preghiera apre i cuori e dà speranza e la fede nasce e si riforza. Vi invito figlioli con amore a ritornare a Dio perché Dio a decidire per la conversione e la vita e il vostro amore e la vostra speranza. Non hai futuro se non ti decidi per Dio e per questo sono con te per guidarvi e non per la morte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. la mia chiamata. Grazie a tutti.